Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Benvenuti nell'episodio 18 della DocCraft. Sti Phantom hanno rotto già le palle. Uno, tiro giù anche te adesso. Tiè, uno e due, dai, muori. Fluff, perfetto. Mi trovo la farm di Creeper, che voi penso non abbiate ancora visto, perché ho bisogno dei razzetti. Tanto se mi trovo a livello 200, ma questi sono solo dettagli. Sono stato a formare un po' la farm di Enderman. E guardate la farm di Creeper invece, quanti ne fa cadere. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo ad uccidere il Wither e finalmente recupereremo ben due Netherstar, perché come vedete nel mio inventario abbiamo sei Wither Skeleton Skull. Direi che questa Gunpowder può essere sufficiente. La andiamo a mettere qua dentro, mentre questi piedini di Iron nel Backpack. Perfetto. Andiamo a casa, velocemente, che ovviamente si situa in... Quale direzione si situa a casa? In quella direzione. Ed eccoci qua. Allora, oltre che uccidere il Wither, ovviamente oggi ci tocca fare altri due oggetti inederite, che deciderò ora. Vi sicuro voglio fare l'elmetto e poi un utensile. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Potremmo fare l'ascia, o potremmo fare la nostra bellissima spada. Però vi direi che oggi facciamo l'ascia, con i nostri lingotti inederite. Smitting Table. E trasformiamo. Ecco la nostra Tonno Sword. E l'armatura, chiaramente, me la devo togliere. Ecco la nostra armatura inederite. Perfetto. Un Knockback Resistance. 3 di Armor. Mentre questa la rinfiliamo qua. Possiamo andare nel nostro amico Nether. Ovviamente mi serve la Soul Sand. Se no, il Wither come lo spawniamo? Ecco la Soul Sand. Non ci ha voluto molto. C'è ora di più a tornare che a prenderla. Ce ne servono ovviamente 4x2, 8 pezzetti. Perfetto. Ora possiamo andare a casa. Che non ho la minima idea di dove sia. Se Minecraft non esplode. Ovviamente senza Optifine, Minecraft si avvia e con no. Perfetto. Bene signori, siamo tornati. Sono venuto su Lunar e ho disinstallato Feather. Perché non ne potevo più. A parte che Lunar è anche molto meglio per gli FPS. Quindi bene. Che non vedo le cose incantate. Bene, c'è solo un piccolo problema. Lunar non fa vedere gli oggetti con i Glinter. Quindi niente. Avremo per sempre gli oggetti senza i Glinter. Almeno. Bene signori, ho deciso di cambiare un paio di cose. Entrare con Minecraft normale ed eliminare i client da questo computer. Perché non è possibile che non si vedano i Glint delle mie cose. Quindi se nessuno ora mi è d'intralcio, io andrei a spawnare il Wither. Facciamo così. Ho cambiato idea. Posto che andare sotto terra, come vi ho detto, andiamo nel Land. Perché se noi spawniamo il nostro amico Wither, se riesco a andare qui, se noi spawniamo il nostro amico Wither incastrandolo nel portale, certo che se io non vedo le coordinate, se noi andiamo nelle coordinate giuste del Land, che sono qua, e lo spawniamo sotto al portale, dovrebbe buggarsi. Ed è una cosa buona. A noi serve che si bughi. Se potessi atterrare magari. Bene, quindi andiamo nel Land. Mangiamo. E andiamo a spawnare il Wither sotto il portale. Ah, ovviamente prendiamo l'ossidiana. Ok, così dovrebbe bastare. Quindi se noi ora andiamo sotto il portale, qua, e andiamo a scavare qui sotto, facciamo una piccola piattaforma, sperando che funzioni il bug, se no poi siamo veramente fottuti. Noi andiamo a buggare qui il Wither, scavando in 3x3. Andiamo a inserire l'ossidiana, così. Poi la insegniamo anche di lato. Ok. E poi le teste, con la soul send ovviamente. Diamo il nostro corpetto, e le mele d'oro qua. Nella seconda mano magari. Tutto dovrebbe essere perfetto. Prendiamo tre teste. Uno, due, sbambo. Ok, forse ha funzionato. Si dovrebbe essere buggato lì dentro. Facciamolo esplodere. Perfetto. No ragazzi, si è rotto. No, questa cosa non va bene. Questa cosa non va per niente bene. Eh no. Male, male sta cosa. Dobbiamo ucciderlo prima che lui uccida noi. aia, fa danno però. Vuoi morire? Dai. Dai, 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 dai. Dai che sei morto. Oh, perfetto. Ho l'armatura letteralmente distrutta. Ma letteralmente. Eh, direi che qui nell'end ha fatto un bel casino. E invece no. È vero, non può spaccare i blocchi come noi. Quindi qui magari, diciamo che, rendiamo l'end tutto bello, liscio. Perfetto. Riproviamo, magari stavolta si bugga. Up. Uno, due, tre. Andiamo qua, da parte. Ok. No, peccato, vabbè. No, vieni qui, vieni qui, vieni qui, brutto infame. Non ho più frecce. No, questa cosa non va bene. Ho trovato delle frecce nel, nel mio shulker. Nell'altro shulker che ho, nell'ender chest, quindi ora possiamo ucciderlo. Se stendermi non rompessero le palle, Wither, no, 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 non andare alla farm. No, che puoi soccarsi. Vieni qua, infame. Ah, quindi di questo, non lo so, non lo so. Oh, ma ho fatto un attacco a tre teste. Ok, è sceso. Adesso possiamo ucciderlo con la spada. No, perché ora spacca i blocchi? Aiuto, sto morendo. Ok. Mamma mia. E' il problema che devo riparare tutto sto buco. Ci vediamo lavoro finito. Perfetto. Ora possiamo andare a chiudere qui. E possiamo anche lasciarla, tutto questo schifo. Tanto nessuno vedrà cosa c'è qui sotto. Tanto meno vedranno i blocchi che ho utilizzato. Magari qua giusto facciamo una roba del genere. Ancora un blocco mi serve. Sbagliato. Perfetto. Andiamo a mettere via il nostro amico tridente. Direi che possiamo andare a riparare tutta l'armatura perché guardate come ce l'ha distrutta. A parte i nostri gambali sono rimasti ben intatti ma tutto il resto dell'armatura è molto distrutta. Vediamo la durabilità. 200, 300, qui non si è distrutto per niente e qui comunque 200. Quindi andiamo alla nostra farm. Se non riprendessi gli oggetti che droppo che ovviamente è da quella parte. Ok, guardate in quanto ci ripariamo. Uno, due, tre, quattro, e cinque spadate. Abbiamo già riparato tutto. E direi che possiamo andarcene di qui. Rieccomi tornato. Ero andato a riavviare il computer e prendere una piccola mod che mi permette di vedere la durabilità in basso a destra dello schermo delle nostre cose. Adesso è tempo di andare a craftare i due beacon che abbiamo aspettato fino a quest'oggi. So che per prendere il beacon ci serve dell'ossidiana che io potevo benissimo prendere nell'end ma che non ho preso, del vetro e poi ovviamente la nether star. Devo vedere se mi è rimasto del vetro. No, perfetto, dovremmo andare a prendere anche del vetro. Oppure forse me ne è rimasto nell'ender chest. Vediamo se ecco qua, perfetto, ne servono 3, 5, 10 e questo ce l'abbiamo. Vado a prendere anche l'ossidiana e poi ci vediamo non appena l'avrò raccolta. Perfetto, ho raccolto i 6 pezzi di ossidiana che ci servivano. Ora possiamo finalmente craftare i nostri amici beacon con vetro, ossidiana e le nostre nether star. 1 e 2. Quasi quasi vi direi che spacchiamo pure tutti questi diamanti. Ovviamente bisogna prendere il piccone con fortuna. Vediamo da 12 diamanti con fortuna 3 quanti ce ne darà. Io non ho ancora guardato. Uh, 25 li ha praticamente raddoppiati. Bene, è un buon numero. Ci serviranno anche per attivare il beacon. Anche se questa cosa la vorrei fare nel prossimo episodio. Facciamo così, per oggi terminiamo già qua. Tanto comunque qualche pezzettino di contenuto ce l'abbiamo. E nel prossimo episodio vediamo di piazzare questi due beacon, o almeno uno dei due. E direi che il blocco principale con cui li costruiremo sarà lo smeraldo, direi. E forse anche un po' di oro. Vediamo. Da me e questo episodio è tutto. E vi ricordo che nel prossimo episodio completeremo tutto il set di netherite, sia l'armatura che i nostri bellissimi utensili. E finalmente vedrete la tonno staff come si deve. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto con il diciannovesimo episodio della DocCraft. Ciao!